Presso l'aula magna Valeria Spada del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia avrà luogo domani 23 ottobre alle ore 18 la cerimonia di chiusura della dodicesima edizione del BAC Festival, manifestazione dedicata alla letteratura per ragazzi organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti in collaborazione con la Biblioteca, la Magna Capitana e l'amministrazione comunale. L'evento, ispirato quest'anno ai temi dell'Agenda 2030 e intitolato Greenback, emissione libri, vedrà come protagonista del gran finale Sonia Maria Possentini. L'autrice si esibirà in una performance intitolata La Natura sa quasi tutto e sarà accompagnata dalla Fondazione Musicalia, la quale sarà diretta dal maestro Carmen Battiante e ha curato anche la rielaborazione delle musiche e dei testi. A seguire ci sarà poi la premiazione del concorso letterario Angela Articoni collegato al Festival.